Su sviluppo o evoluzione io metto parzialmente in contrapposizione i due concetti. In entrambi i casi si può parlare di progresso, tanto sotto la specie dello sviluppo quanto sotto la specie della evoluzione. E progresso vuol dire andare avanti, proprio etimologicamente, che vuol dire che abbiamo in mente un punto di partenza e un punto d'arrivo. Questo in entrambi i concetti. Qual è la differenza allora? La differenza è chi va avanti. Lo sviluppo implica che chi va avanti sia un soggetto sempre uguale a se stesso. L'evoluzione invece implica che quel soggetto che va avanti cambi, modifichi se stesso. Sotto il profilo etimologico, il verbo evolvo, cioè un'idea di muoversi, di un movimento circolare, o di un movimento di rotazione. Certo, sviluppo vuol dire, c'è l'esse privativo, uscire da un viluppo, cioè districarsi. Districarsi. No, basta pensare ad essere finiti dentro un sistema di liane che ti tengono e tu ti muovi per districarti. Esci da un intrigo. Tu sei già te stesso. Ti devi soltanto liberare da impedimenti. Questo è il concetto moderno di libertà. Il più semplice concetto moderno di libertà. La libertà negativa, la libertà dagli impedimenti. È un concetto potentissimo. Perché vuol dire, se lo portiamo in politica, vuol dire, Rousseau, l'uomo nasce libero e ovunque è in catene. È una frase semplicissima che contiene tutto il progetto emancipativo della modernità. L'ovvia conseguenza è che dobbiamo svilupparci, toglierci da quell'intrico di catene che ci tiene bloccati. Non dobbiamo migliorare. Siamo già a posto come siamo. Abbiamo dei diritti naturali. È un modo di ragionare potentissimo, perché ti dà un'enorme energia, perché per l'appunto ti consente di tramutare il movimento, il movimento sociale, il movimento politico, di coprirlo, di presentarlo, di giustificarlo, con una pretesa di moralità. Cioè è giusto che io, che sono perfetto, ho dei diritti perfetti, diritti soggettivi perfetti, e me li vedo negare perché sono finito in una trappola, perché sono finito, perché sono ovunque in catene. Beh, è giusto. Non solo lo faccio perché mi va di farlo, ma è giusto che io lo faccia. La morale è con me. Al limite Dio è con me. Sottolineo questo perché questa idea che io adesso ho citato Rousseau perché è il nome più spendibile, ma in realtà, quando vi ho detto è il concetto moderno di libertà come libertà da impedimento, stavo citando Hobbes. Io sono sempre uguale a me stesso. Devo semplicemente uscire da una situazione che mi tiene avviluppato. L'uscire da una situazione che mi tiene avviluppato è lo sviluppo. Quando sono avviluppato sono sempre io, ma sono al minimo. Quando invece mi sviluppo sono sempre io e sono al massimo. Non cambio. I miei diritti sono naturali, precedono tutta la questione. non mutano. Che differenza c'è fra un essere non sviluppato e un essere sviluppato? Basta prendere Hobbes, Decive, copertina 1642, per un secolo è costumato a fare delle copertine, degli emblemi. Lì, fra l'altro, in questa copertina, Decive, non è il libro di Hobbes più perfetto sotto il profilo teorico, ma forse è stato per lungo tempo il più letto, il più importante. Lì, fra le altre cose, c'è un miserabile indiano d'America, un nativo, ma brutto, ma magro, palesemente malsano, triste, le a tutte. E sta su una colonna e sotto c'è scritto Libertas. Quello è un essere sottosviluppato, poco sviluppato, perché è libero, sta nello stato di natura, c'è un arco, per cui, per mangiare, deve uccidere tutti i giorni con arco e frecce qualche animale. Insomma, è una vita precaria. Una società di individui sviluppati è una società che si è liberata dalla libertà, cioè che si è liberata dallo stato di natura, che è venuta, si è tolta, si è strappata di dosso tutto quello che ti impedisce di essere quello che puoi essere. Cioè, come dirà sempre Hobbes nell'altro grande libro, il Leviatano, 1651, perché facciamo il salto dallo stato di natura allo stato politico, perché ci sviluppiamo, perché usciamo dai condizionamenti che ci impediscono di essere noi stessi, pur non facendoci essere altro che dei noi stessi miserabili. Non è il rapporto che c'è fra un bruco e una farfalla che è una metamorfosi. No, se è semplicemente un poveraccio rispetto a un uomo ben messo, lo facciamo per godere dei frutti della nostra industria. Cioè, c'è un'umana industriosità che fa sì che gli esseri umani siano ben messi, possano essere ben messi. Però, per fare questo, bisogna uscire dallo stato di natura. Un essere sviluppato è un essere che vive dentro l'universo leviatanico della politica, nell'ordine razionale, eccetera, eccetera. Oh, noi non abbiamo cambiato di un millimetro questo modo di ragionare. I paesi in via di sviluppo, che cosa sono? Sono inferiori a noi? Sono diversi da noi? e hanno una qualità diversa da noi? No. Sono semplicemente messi male. Ma hanno la nostra stessa dignità. Hanno un seggio all'ONU, tanto quanto i paesi più sviluppati. Non ci interessa sapere qual è la qualità della loro cultura. No. Noi sappiamo che hanno un PIL molto, molto, molto basso. E se vogliamo usare un criterio un po' meno brutale del PIL e usiamo l'indice di sviluppo umano, beh, anche qui sono tutte delle grandezze quantitative. L'indice di sviluppo umano è la media geometrica, dopo essere stata la media aritmetica oggi, l'ONU lo calcola come media geometrica di aspettativa di vita, anni di istruzione di cui la persona può godere e reddito. E mettendo insieme con appositi algoritmi queste grandezze si costruisce un elenco di tutti gli stati del mondo che viene ripartito di solito in quattro fasce, no? Indice di sviluppo umano molto alto, indice di sviluppo umano alto, indice di sviluppo umano medio, indice di sviluppo umano basso. Un'idea quantitativa da una parte e universale dall'altra. Universale cioè questi conti li si fa per tutti perché tutti hanno diritto di uscire da una situazione di sotto sviluppo ed arrivare a svilupparsi. Niente di male, non stiamo dicendo che tutto ciò sia sbagliato. qual è il nemico? Il nemico è ciò che ti avviluppa, ovviamente il nemico è quello che ti tiene legato, stretto, ma poi concretamente qual è il grande nemico? Sono due i grandi nemici che corrispondono alle due grandi invenzioni della modernità, lo Stato e il mercato. Primo grande nemico la guerra civile, comunque sia il disordine, il disordine mortale, secondo grande nemico la scarsità. Tutte le pratiche che vogliono sviluppare devono combattere scarsità e violenza, scarsità e violenza, scarsità e disordine. E qual è il punto indiscutibile? il soggetto che è sempre uguale a se stesso perché nasce con i diritti già fatti e finiti che devono essere implementati. Qual è la dimensione? E questo dovere è un dovere morale, come sentite ho detto dovere. E qual è la dimensione su cui questo accade, deve accadere? è universale, cioè non è che c'è una parte del mondo che ha diritto di essere sviluppata, è una parte che invece se ne deve stare buona a fare la parte sotto sviluppata. No, universalità. Questa è l'idea forte della modernità. Non è uno scherzo, perché qui dentro ci sta ci stanno le rivoluzioni che vuol dire proprio strapparsi di dosso le catene, strapparsi di dosso le catene, quando qualcuno non ha più da perdere se non le proprie catene e ci sta l'impianto l'impianto capitalistico che sta sulla terra, considera la terra come come qualche cosa a cui va strappata la ricchezza che la terra custodisce avaramente, che non ci vuole concedere e allora dobbiamo forzarla. E noi facciamo questo, scaviamo miniere, facciamo dighe, facciamo abbattiamo foreste. la terra è il best hand, questo, per citare Heidegger, cioè il fondo, quell'insieme di energie, di ricchezze che va va preso e consumato, il paese sviluppato quando ha accesso all'energia, cioè tutta la nostra civiltà si fonda sull'idea di sviluppo, ma come vedete dentro l'idea di sviluppo ci stanno delle precondizioni logiche, delle categorie che vanno sapute, vanno ben tenute in considerazione, cioè abbiamo l'idea di sviluppo è segnata da un forte attivismo, quasi disperato, cioè bisogna, siamo qui, siamo qui, ci tocca, non possiamo non non possiamo non grattare la terra, non possiamo non sfruttare, non possiamo non svilupparci, che poi con questa coazione allo sviluppo venga messo a rischio l'altro paradigma, cioè la sicurezza, anche questo è vero, perché c'è ovviamente la corsa alle materie prime, la corsa alle fonti di energia, la corsa ai territori migliori, però questa è la nostra storia moderna.